Siamo qui con il mister Dall'Adelese Ivan De Capitani Allora mister, quest'oggi grande emozione per la vittoria contro la prima in classifica C'è stata molto fuori nei suoi giocatori, molto entusiasmo Sono entrati subito ottimamente in campo Due gol nei primi 15 minuti che hanno messo subito a vostro favore la partita Poi credo che avete gestito ottimamente la gara Non facendo fare neanche una conclusione in porta ai vostri avversari Sì, è andata proprio così Siamo stati bravi a far subito quelle due occasioni Di cui una abbiamo fatto gol E poi l'abbiamo chiuso su 2-0 È vero, siamo stati subito in partita Ecco quello che non era successo domenica scorsa a Brembio E' successo oggi D'altronde, ripeto, sai quelle partite qua hanno un sapore diverso E quindi le prepari diversamente Purtroppo l'abbiamo sbagliata domenica E pazienza insomma, vediamo di far meglio Da sottolineare l'ottima prestazione dalla difesa Che ha tenuto ottimamente contro, si può dire, il migliore attacco del campionato La sottolineare anche l'ottima prova del tridente Con l'esperienza e la tecnica di Perolini E l'agilità e la speggiudicatezza dei due dietro A De Magni e Mellino Insomma, anche il tridente là davanti Questo oggi ha funzionato Sì, oggi hanno funzionato tante cose Probabilmente, ripeto, se venivi domenica scorsa Ti avrei detto delle cose completamente diverse Dispiace perché purtroppo avessimo fatto il risultato domenica Eravamo lì attaccati con le prime Siamo lì, siamo contenti perché oggi è un bel risultato da morale Adesso bisogna prepararsi allo sprint finale In quelle cinque partite qua che mancano Può esserci anche l'armarico per i punti persi nelle partite precedenti Pensare che se fosse stato il risultato pieno domenica scorsa Eravate almeno 3 della prima Ma comunque l'anno dell'ese è pronta per lo sprint finale dai playoff Speriamo, speriamo di essere pronti sì Perché se la vediamo in prospettiva Dico che stiamo facendo un ottimo giorno di ritorno Abbiamo fatto un ottimo campionato Ci mancano cinque partite, abbiamo 44 punti Già sono tre in più rispetto a tutta la passata stagione Non so se saranno sufficienti a fare playoff o meno Perché ci sono i nove punti che devono esserci rispetto alla seconda Io mi auguro di sì perché sarebbe un bel premio per noi Ma per la società stessa che non è mai fatti Quindi speriamo di raggiungere con un obiettivo E fare una bella festa alla fine